Siamo qui con Roberto Messina, Presidente di Signor Italia Federanziani, la federazione che ha dato vita a tutta l'operazione Mille Piazze Festa dei Nonni d'Italia. Finalmente possiamo dire che comincia proprio questa sera l'edizione 2016 della Festa dei Nonni e di Mille Piazze per i Nonni. Una manifestazione importante perché ha come obiettivo quello di raccogliere dei fondi che poi saranno destinati ad attività importanti per i centri anziani. Quest'anno abbiamo dedicato l'intero ammontare del ricavato per l'acquisto di defibrillatori da poter essere inseriti all'interno dei centri anziani. E quindi un grazie speciale va sicuramente alla squadra di calcio Frosinone, un grazie speciale va alla nazionale Attori che insieme disputeranno una partita in favore dei nonni. I nonni che in questo momento in Italia sono il vero welfare state, il vero paracadute sociale e danno una mano a tutti quanti i loro figli e i loro nipoti. Presidente, Mille Piazze avrà una serie di eventi che ci accompagnerà per circa un mese di attività. Questa sera siamo allo stadio di Matusa e di Frosinone per la partita dei nonni, ma ci sono altre due iniziative molto importanti in questo mese, le vogliamo ricordare? Sicuramente sabato e domenica in Mille Piazze Italiane, oltre che in tantissimi centri anziani, si svolgeranno la festa dei nonni e soprattutto verranno distribuita della pasta. Questa pasta per noi è il simbolo della famiglia e chi vuole può dare un contributo e appunto questo contributo servirà per aumentare l'acquisto dei defibrillatori. Infine la nostra festa si concluderà sabato 15 ottobre con un'udienza speciale con il Santo Padre alla Sala Nervi in Vaticano. Un'ultima cosa, pronostico secco per questa sera, nazionale attori o gloria del Frosinone Calcio? Chi vince? 1-1 palla al centro, viva i nonni, vincono i nonni. Grazie mille, buona serata.